Cari fratelli, cari sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Spero che vi siete svegliati in piena forma, nonostante il clima che è un po' inquieto, però non vi preoccupate. Vi offro un buon caffè che vi darà più energia per affrontare la giornata. Siamo nel Vangelo di Marco, capitolo 3, versetti 7 a 12. In quel tempo, Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone, una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora disse ai suoi discepoli di tenerle pronta una barca a causa della folla, perché non lo scacciassero. Infatti aveva guarito molti, così che quanti avevano qualche male si gettevano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano, tu sei il figlio di Dio, ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Parola del Signore. Qui troviamo Gesù quasi da solo al di fuori dei suoi discepoli. Non ci sono più i farisei. Dopo qualche invettiva con i farisei, Gesù si ritrova finalmente da solo con i suoi discepoli. Questo distacco è come un segnale per dire che già parte l'inizio del nuovo popolo di Dio, un popolo che nascerà dalla predica di Cristo, non più dalla predica dei farisei. Gesù viene giustamente a dare luce a tutti quanti che camminavano nelle tenebre. Le persone o la folla che andava verso Cristo di solito era composta dagli ammalati, dunque delle persone abbandonate, delle persone di poco conto, delle persone che i pastori non curavano, non guardavano. Allora Gesù dunque accoglie tutte queste persone e da lì nascerà questo nuovo popolo di Dio, perché il regno di Dio appartiene a quelli che sono poveri in spirito. Ecco, allora Gesù dunque non soltanto predica con la sua parola, ma guarisce anche tante persone. La sua guarigione o le persone guarite sono come un segno della presenza del regno di Dio. E poi, secondo quello che Marco dice, che infatti aveva guarito molti, non ha detto che ha guarito tutti, ma molti, vuol dire una parte. Per dirci carissimi, ecco, si può avvicinarsi dal Signore, si può aggregarsi al Signore, ma quando non c'è fede, allora non si riceve nulla. Tanto è vero che tutto ciò che chiediamo al Signore, oppure tutto ciò che otteniamo dal Signore, non è per merita, non è per merito nostro, ma per merito suo, perché lui sa che cosa abbiamo bisogno. Ma qui è soltanto un invito ad avere fede del Signore, perché siamo numerosi, però chi ha fede in lui, chi ha fiducia in Cristo, trova risposta, trova guarigione. Questo non significherebbe che tutti quanti che non sono guariti, tutti quanti che non trovano risposte, sono abbandonati dal Signore. Assolutamente no. Qui tocca capire che ogni cosa arriva a tempo suo. Basta di continuare ad avere fede nel Signore, perché ognuno ha il suo tempo. Dio sa quando abbiamo bisogno di qualcosa. E poi anche Gesù diceva, ecco, nelle guarigioni che sono state realizzate, è come seno di Dio. Dunque, per dirci, carissimi, non dobbiamo lamentarci, perché abbiamo pregato, non abbiamo ottenuto nulla, abbiamo pregato, non c'è nulla da fare, non dobbiamo lamentarci. Qui tocca sempre continuare ad avere fede nel Signore, ogni cosa, come ho detto prima, a tempo suo. Che il Spirito Santo susciti in noi la fede in Cristo, perché è solo Lui che può guarirci, solo Lui che può dare risposte alle nostre domande. Però, pazienza e perseveranza ti vogliono. Vi auguro una buona e santa giornata, che Dio vi benedica sempre.